. Chiara Ferragni contro sua sorella, il video della sfida Chiara Ferragni è la sfida social contro sua sorella, il video su Instagram. Chiara Ferragni ha voluto sfidare sua sorella Francesca su Instagram, pubblicando un video che è stato molto apprezzato ma anche molto criticato su social. . Insomma, dopo la foto in topless caricata qualche giorno fa, la bionda fashion blogger è ritornata a far parlare di sé, e siamo sicuri che tale video avrà molto eco tra le notizie del giorno. . Chiara Ferragni ha infatti sfidato la sorella a colpi di seno, colpendosi reciprocamente. Nella vivascalia del video, Chiara ironicamente dichiarato che questo può succedere soltanto quando sfidi tua sorella che ovviamente ha delle coppe più grosse delle tue. . . E dal video è impossibile darle torto, quelle della sorella Francesca sono decisamente più rotonde e visibili rispetto le sue. Chiara Ferragni ha comunque utilizzato il video anche per pubblicizzare la sua nuova collezione di abiti, che si possono trovare nei suoi nuovi stores in giro per il mondo. . Chiara Ferragni e Francesca, la sfida social che fa discutere. . In Italia il primo store di Chiara Ferragni è stato aperto a Milano, in zona Garibaldi, dove è possibile acquistare sia le magliette che le scarpe con i suoi indistinguibili loghi, dall'occhio azzurro alle labbra con il rossetto rosso, fino alle covere e agli zaini con su scritto il suo motto, Iguis. . Chiara Ferragni, con addosso una di queste maglie, ha inoltre oggi voluto sfidare sua sorella su chi avesse il senno più potente, e dopo un piccolo scontro, la Ferragni ha dovuto ammettere che la vincitrice era proprio Francesca. . Chiara Ferragni è quindi ritornata a casa dopo la breve vacanza a Taormina, in Sicilia, insieme al suo fidanzato Fedez, il rapper era volato nella località balneare anche per lavoro, in quanto si era tenuta l'ennesima tappa sold out del suo tour estivo in collaborazione con il Lungax. .